Questo è un altro fungo moro, molto più piccolo ma penso sicuramente decisamente anche più bello perché non essendo ancora uscito fuori, non è stato ancora toccato dalle lumache. Eccolo qua, è un bel fungotto, è all'incirca un etto e mezzo, moro come quell'altro. Ecco, e raccogliamo via. Abbiamo durato un po' di fatica per arrivare fin quassù, ma forse questa fatica è ripagata.